L'Udc, Conforza Italia, La Lega, Fratelli d'Italia e le liste civiche Progetto Fano, Latto a Fano e Nuova Fano sostiene convintamente Lucia Tarsi, il futuro sindaco della città di Fano. Non ci sono altre ipotesi al momento, le smentisco categoricamente, anzi abbiamo già iniziato a fare la campagna elettorale da diverse settimane e le prossime settimane inizieremo a incontrare i cittadini nei quartieri e nelle frazioni, frazioni peraltro abbandonate da questa giunta dal sindaco Seri. Non ci sono altre ipotesi, ci concentreremo sui grandi temi che in questo momento interessano la città e impediremo, e questo lo garantisco in maniera più assoluta, che si metta mano alla salute dei cittadini, alla gestione dei rifiuti. Il grande progetto a mano Seri con la complicità del sindaco di Pesaro e del PD provinciale, noi lo bloccheremo, che è quello della gestione totale dei rifiuti che verranno tutti a Fano e della sanità che andrà tutta a Pesaro. Questo è un progetto che noi bloccheremo.